E adesso andiamo invece a Lucrezia dove in piazza San Giovanni Paolo II questa sera c'è la terza serata di Music Square e siamo collegati con Lucrezia dove vedo c'è il sindaco Enrico Rossi, sindaco che tra l'altro ha inventato questa manifestazione musicale quando ancora non era primo cittadino, sette anni fa. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera a tutti voi. Allora qual è il programma della serata? Direi che la terza serata, nonché ultima della settima edizione di Music Square, riservirà a Cartoceto una serata molto frizzante in cui tutti i partecipanti potranno ballare, cantare e davvero far vibrare le loro emozioni sulla base dei brani che fanno parte della storia della musica italiana ed internazionale che questa sera per Music Square la Last Minutes Band assieme al DJ Fabrizio Minuz proporranno. Anche questo contest di quest'anno è partito appunto con un concorso per gruppi emergenti, per artisti emergenti la novità del 2015 però è stata la suddivisione in due categorie tra musica live e DJ devo dire una novità molto molto apprezzata dai partecipanti e dal pubblico lo dimostrano i risultati e l'affluenza sin dalla prima serata. Ieri sera è stata una serata dedicata al grande cantautore Lucio Dalla interpretato da grandissimi musicisti, primo fra tutti Ricchi Portera, suo storico chitarrista e stasera invece siamo qua con l'ultima serata che senza dubbio farà divertire e ballare tutto il pubblico presente qua in piazza Giovanni Paolo II per la terza serata di Music Square. Solitamente c'è l'abbinamento musica e cibo, lì si mangia anche immagino no? Sì, sono già attivi stand gastronomici, tra poco tra l'altro partiranno anche degli spettacoli di danza a cura delle scuole di danza locali, intrattenimenti per i bambini per tutta la serata e poi come dicevo tanti brani di musica italiana ed internazionale che sicuramente sapranno alietare in maniera strepitosa tutto il pubblico e soprattutto il vasto target di pubblico che questa sera speriamo accorrerà qua in piazza Giovanni Paolo II per la terza serata di Music Square. Bene, grazie allora al sindaco di Cartoceto Enrico Rossi.